Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di tre distinti interventi, ha sequestrato circa una tonnellata di sigarette e tratto in arresto quattro contrabandieri. Due di essi sono stati denunciati anche perché percettori del reddito di cittadinanza. In particolare il gruppo di Nola, tra Merito di Napoli e Rione Don Guanella, area alla periferia nord del capoluogo, ha individuato tre soggetti napoletani già conosciuti dalle stesse fiamme gialle per precedenti episodi di contrabbando. Grazie a prolungati pedinamenti, i finanzieri hanno individuato un box a Merito di Napoli dove sono stati sequestrati 410 kg di sigarette di contrabbando ed è stato tratto in arresto un responsabile. Nel corso di un ulteriore intervento, le stesse fiamme gialle hanno riconosciuto due contrabandieri e a termine di un complesso servizio di osservazione, li hanno colti in fragranza mentre caricavano su un'autovettura 50 kg di bionde. Il servizio è poi proseguito con la perquisizione di un appartamento a Scampia dove i finanzieri hanno rinvenuto oltre 310 kg di sigarette di varie marche, Regina, Winston, Richmond, Marlboro, Chesterfield, Regal e Rotmans Demi. Nel corso di una terza operazione eseguita a Ercolano, il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha sequestrato tre quintali di sigarette traendo in arresto un cittadino incensurato di Bosco Reale. I finanzieri hanno notato un soggetto che a forte velocità viaggiava col suo furgone nei pressi dell'autostrada A3 Napoli-Salerno. Ne ha seguito un pedinamento al termine del quale il veicolo commerciale è stato fermato e sottoposto a controllo in prossimità del casello autostradale Ercolano-Scavi, attività che ha consentito alla fiamme gialle di rinvenire al suo interno 300 kg di sigarette di contrabbando Marlboro-Rosse, con indicazioni in inglese. Il conducente del veicolo è stato arrestato in fragranza di reato e denunciato per detenzione abusiva di armi in quanto presso la propria abitazione sono state rinvenute e sequestrate 240 cartucce per fucile modello Winchester 12-16, detenute senza alcun titolo. Le attività in parola scaturiscono dall'intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, disposti dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e volti a contrastare il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri.